Siamo qua a vedere l'exit poll e presto partiremo con il nostro poll, vai a riprendere, vai a vedere i cartelli e la telecamera, ecco qua il pollo, grande protagonista di questa giornata si spera, guardiamo anche se... cartelloni a riposo, per il voto un'offerta, così si questo anche, se il voto è partecipato, se il voto è il caso di non impagniarmi bene. Mannaggia perché non hai... schede elettorali, per questo ne paghi d'abbè, schede elettorali, ah mi vuoi fredell'acqua, guarda li vediti mentre ti dico scazzo, va bene, vai, vediamo i partiti in gioco, votazioni, erezione comunale 2008, Tegami Uniti, Patito della Topa, Chiupilo Pitutti, CPPT, che non può confondersi con la CPPT, secondo me farà gran casino questo CPPT, abbiamo... Ciao parlanza, ciao, lo so che te voto il Partito della Topa, lo so che voto il Patito, guarda c'ho anche, guarda vi faccio vedere che sono un elettore fedele io, c'ho anche i bigliettini elettorali, soprattutto io centro, io c'è magari, magari... Presidente della Commissione, come sta andando? sta andando molto bene, l'affluenza alle urne è più piccola, sì il primo grafico interattivo che parla, ma è il commento, il grafico parla per noi vediamo che l'affluenza delle urne cresce in modo esponenziale Poi, Degami Uniti, il partito convento tu, io nel frattempo... Degami Uniti comincia a prendere il largo, ma sicuramente ci saranno recuperate c'è uno per il Patito, eh, uno al Patito vedi, infatti il Patito della Topa recupera vai, vai ma insieme non c'è per davanti fino a Minuccia lì ma se a faccio così non è colpa mia ma anche non indicata lì, insomma allora, il voto è segreto, ragazzi, mi raccomando, eh, cioè, faccio una cosa per bene ecco qua, il primo prototico di seggio elettorale vivente va puttana, Guinda, devi morire sì, perfetto allora... ma fatelo a moto, fatelo scusi, stiamo facendo, siamo in onda sì, ma io devo seguire il risultato ma allora... ma chi levi di uno? ma siamo in onda, siamo eh, allora, vai a notare allora, l'exit pollo delle 14.45 registra una scarsissima affluenza alle urne e... una scarsissima affluenza alle urne perché gli elettori sono impegnati a fare altro e comunque il partito e la topa è il netto vantaggio a occhio e croce sarà il 70-80%, capito? a occhio e croce e con... si vede, si può vedere dalla grafica altamente computerizzata e... faccio vedere il computatore salve, siamo il computatore questo è il computatore dalla grafica computerizzata possiamo vedere che il partito della topa è in vantaggio c'è una forchetta, un mestolo e anche una... è anche un tegame che... del 3-4% antani va bene, ciao! prossimo collegamento tra un quarto d'ora più lezioni le lezioni comunali in inglese quindi, oggi abbiamo le elezioni in Pisa, anzi, le elezioni non le elezioni no, scusate, ma queste sono le elezioni le elezioni che vedete le T-Pots è arrivata? lo scontinueremo solo dopo 5 secondi un po' è il segreto un po' è il segreto non si sa prego no, no, no siamo in casa e poi hai le preferenze se ti piace vettura, vettura, vettura quindi... le elezioni le elezioni le elezioni ma... be careful perché il voto rende la pelle e non voti nella presenza di nuove e di nuove le elezioni signori, altro voto altra corsa questa è la rettichizziamo anche se è già votata signori, c'è l'antività le T-Pol dice che è questo è un voto straniero è un voto inglese è un voto all'estero signori, un voto a integra mi uniti a vista United Vegas ho bene io ho detto United Pots che va bene il pot è il pollo 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 la votazione è qua pieghiamo la scheda perché il voto è secreto non sa? tenete questo vediamo la scheda il voto va secreto fino a secerno la secerno la secerno il pollo lo secerno il pollo lo secerno entra e exit port eccolo secreto guarda è arrivato un nuovo voto signori tenetelo chi voto sarà? io sarò il computatore dei voti il computer voto in computer vota a chi un P lo vinti signori un P lo vinti grazie grazie questo è il grafico sa per adesso vince il partito della topa eh sì sì ma io ero quello vestito da donna mentre si parlava con noi ma ne ero eh ma ci conosciamo tutti ah ecco perché c'è questo feeling ovviamente si ricordava di te no vieni vieni un voto la votante non ha votato un po' la votante non è un voto un voto direzione comunale vuole votare? faccio amici no ahah ma la pena non ce lavo però ehm caristia penna una penna per il signore sì certo grazie posso mettere gli occhiali certo Il voto è segreto e quindi lo seccerna per venire No no il voto è segreto Il partito da dove esiste secondo te? Magari esiste Eh diaclui aggiungi uno Grazie Vuoi mettere anche voi? Ma si dai Facciamo finire il pari di sbagliare Che sia una cosa segreta Quanto al tonno? Sono scherzo Questa è la cabina elettorale Arriba il pollo Occhio a arrivare Arriva l'ex di pollo Attenzione E' certo Grande Il piegolo è il meglio possibile Perché se no non c'entrano a pollo Anzi non c'entrano È un pollo stretto L'hanno disegnato così Signore sta per arrivare un nuovo voto Un nuovo voto Anni mi sono distrutto un dito E' arrivata alle 15 Exispoor delle 15.01 Dopo un'ora di scutinio Le elezioni comunali Vedono il partito dell'uccello A tre punti La CCPT che lo segue a tre distanze Tegami Uniti a altre 4-5 E il partito della Coppa che sta fenomenando Nelle nostre piore Il pollo ti vede dall'alto Guarda In Italia Vabbè Quindi questo è il nuovo simbolo del Giorno Guardate qui quanti Guarda qui Guarda qui Guarda qui Guarda qui Vedi 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 Vedi